HCS e i sindacati rifiutano trattative sulla cassa integrazione e si dicono contrari a sottoscrivere accordi senza un piano industriale serio. Niente mercatini di Natale. Il sindaco di Civitavecchia ha accolto la richiesta dei commercianti ritirando il bando allo studio Nuove Iniziative. Nuoto Damiano Lestingi torna ad un successo internazionale con il bronzo agli europei di Vasca Corta nei cento d'orso. Già penso ai mondiali, commenta. E ben trovati dal telegiornale Alto Lazio. Rifiutano qualsiasi trattativa sulla cassa integrazione senza avere tra le mani un piano industriale serio che dia garanzie sul futuro dei lavoratori di HCS e i sindacati. Oggi al nuovo vertice con l'amministrazione comunale si presenteranno con questa linea. Contrari quindi a sottoscrivere qualsiasi accordo. Intanto Tidei dice si devono trovare 3 milioni e mezzo di euro entro dicembre per gli stipendi. Sentiamo il servizio. Al momento non ci sono i presupposti per siglare alcun accordo. Lo ha ribadito il segretario della Will Trasporti Gennaro Gallo in vista del nuovo vertice tra pincio e sindacati sul futuro di HCS. Non siamo nelle condizioni di sottoscrivere accordi al buio o di fretta. Aggiunto abbiamo necessità che ci venga presentato un piano industriale serio, fattibile, che dia future garanzie ai lavoratori e alle società. E così anche l'incontro di giovedì in Regione Lazio per l'attivazione delle procedure di cassa integrazione in deroga rischia di saltare. O comunque, ha spiegato il segretario della CGL Cesare Cagliazza, siamo pronti a chiedere una proroga. Prima di un qualsiasi accordo deve emergere chiara la volontà che i servizi rimarranno pubblici e che non si perdano posti di lavoro. Se i servizi dovessero essere ceduti al privato, come va avventato in ultima analisi dal sindaco, allora i sindacati chiedono di trattare direttamente con il privato. Oggi viviamo una fase delicata, hanno aggiunto, e l'impegno è rivolto a trovare stabilità organizzativa ed economica per queste aziende. Intanto il sindaco Pietro Tidei ha annunciato che entro dicembre occorrerà trovare 3 milioni e mezzo di euro per gli stipendi, un'impresa non semplice in un momento come questo. Il delegato alle municipalizzate Santori, l'ex amministratore Rina Romagnoli e il capogruppo del PD Flavio Magliani invece puntano il dito contro Moscherini dopo le sue ultime dichiarazioni. La cassa integrazione spiegano e lascia l'uppa con la quale tentare di salvare le società. Eviti di affondarla e di speculare sulla pelle di onesti lavoratori che proprio la sua allegra gestione ha messo in così grave difficoltà. E intanto ieri la Guardia di Finanza ha fatto visita al Comune per prelevare proprio una serie di documenti relativi ad HCS. Documentazione che rientrerebbe nell'indagine aperta qualche giorno fa dalla Procura sui corsi di formazione fantasma che sarebbero stati pagati ma mai eseguiti. L'amministrazione comunale spiegano dal Pincio si è messa pienamente a disposizione delle fiamme gialle nel massimo della tranquillità. Assestamento di bilancio 2012. Integrazione alle norme tecniche di attuazione del PRG. Articolo 18. Zone di completamento. Zone urbane. Molto più semplicemente Piazza 24 Maggio perché la zona urbanizzata U comprende proprio lei. E ieri il Consiglio ha trovato il modo di porre fine, almeno così si spera, ad una storia che va avanti dal 2009 con la presentazione degli esposti da parte del consigliere dell'Italia dei Valori, Vittorio Petrelli, che ha espresso perplessità sulla concessione edilizia relativa a Piazza 24 Maggio che ha portato alla realizzazione di un edificio poi posto sotto sequestro. Non si tratta di risanamento, spiega però il delegato all'urbanistica Franco Passeri. Il Consiglio comunale ha solo preso atto delle modifiche apportate dalla Regione Lazio a questa variante. Variante che, aggiunge Passeri, non riguarda solo Piazza 24 Maggio ma il centro storico, anche perché non si può sanare un'opera con una delibera postuma e che non ha un valore retroattivo. E Comune Denel di nuovo faccia a faccia oggi a Roma al Ministero dell'Ambiente, infatti convocata la nuova riunione per discutere del rinnovo dell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale relativa alla centrale di Torre Valdaliga Nord. Una riunione nel corso della quale, come annunciato più volte dal sindaco Tidei e dai diversi delegati comunali, il Pincio tornerà a sottolineare le presunte inadempienze dell'azienda ed i famosi 37 punti, su cui Enel più volte ha ribadito di operare al meglio e nel rispetto dell'ambiente, della sicurezza e della salute. È nuova ondata di maltempo prevista tra oggi e domani, emessa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. in città e sul litorale sono previste precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio temporale. Mari agitati tendenti a molto agitati. Comune in allerta per evitare nuovi possibili disagi. Lo hanno picchiato selvaggiamente fino a mandarlo in ospedale. Avrebbero continuato a pestarlo se sul posto non fosse intervenuta una volante della polizia. Domenica pomeriggio una banale lite scoppiata nei pressi di un bar di Viale Baccelli ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Protagonisti due rumeni residenti a Civitavecchia che all'improvviso hanno iniziato a picchiare un loro giovane connazionale riducendolo in malo modo. Tavolini rotti, sedie spaccate, pugni e calci. Il ragazzo di 27 anni è lasciato steso sul marciapiede in attesa dei soccorsi che sono arrivati immediatamente insieme alla polizia avvertita da una chiamata arrivata al 113. Il ragazzo è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale San Paolo di Civitavecchia dove i medici hanno riscontrato una brutta fattura di un sopracciglio, la frattura del naso e la rottura di alcuni denti. Ne avrà per 30 giorni, sul caso indagano gli agenti del commissariato che avrebbero già individuato gli aggressori. Un'analisi del voto delle primarie che tiene conto dell'ottimo risultato ottenuto a Civitavecchia dal governatore della Puglia, Niki Vendola. È quella che ha fatto ieri il consigliere comunale di SEL, Ismaele De Crescenzo, ospite della trasmissione Newsroom su Provincia TV e Radio Stella Città. Serve una politica più di sinistra? Spiegato, ascoltiamo uno stralcio del suo intervento. Indubbiamente credo che sia sotto gli occhi di tutti un ottimo risultato. Quasi raddoppiamo la media nazionale, quindi siamo ampiamente soddisfatti. Certo che dobbiamo fare anche una considerazione ed essere intellettualmente onesti a mio giudizio. Non ha votato tantissima gente, questo c'è da dirlo. Io almeno, insomma, con la mia opinione mi aspettavo qualcosina di più. Vince evidentemente politicamente SEL per il risultato che tu sottolineavi e quindi pare un chiaro messaggio onestamente all'amministrazione comunale di fare un po' meglio. O meglio, direi io di voltare un po' pagina e cominciare a fare qualche politica un po' più di sinistra, forse. È importante questo dato che hai sottolineato dell'affluenza. In effetti alle primarie del centro-sinistra, per quanto riguarda prima delle comunali, avevano votato intorno alle 9.000 persone, mentre siamo sotto le 3.000 persone. Poi ricordiamo che era stato un collegio unico, c'era solamente un seggio unico dove votare, invece questa volta c'erano diversi seggi. Tu quindi ti aspettavi più persone al voto? Non dico proprio questo. Innanzitutto le primarie, le precedenti, quelle dell'amministrazione, per l'amministrazione chiaramente furono fatte in due giorni, quindi si vede modo anche all'elettorato di lavorare un po' di più. Poi c'è sicuramente il discorso, come dire, in mancanza di candidati locali c'è un po' più qualche problema. Però io, come dire, dal punto di vista politico, risottolineerei quello che dicevo precedentemente. Cioè, effettivamente, in un quadro in cui ci sono delle difficoltà locali da parte della nuova amministrazione, voglio dire, con tutte poi le problematiche oggettive, effettivamente manca, come dire, manca un dato, diciamo, numerico, non consistentissimo, ma insomma, un po' di gente nostra, del nostro popolo, che non è venuta a votare per segnalare un piccolo disagio e un piccolo malcontento e sollevare, insomma, comunque un campanello d'allarme iniziale, embrionale, sulla nostra politica, io credo che questo sia il segnale. In più si dà un consenso, io devo dire, straordinario a Nichi Vendola, quindi di riflesso, insomma, a noi che effettivamente siamo un po' la parte più critica, diciamo così, più critica, direi, ecco, quello che mai solleva dei dubbi sul programma, insomma, che, ecco, sulla condivisione e quant'altro, quindi si rafforza quella parte che richiede un'azione un po' più di sinistra da parte dell'amministrazione. Quindi la mia interpretazione è quella da domani di chiudere una fase dettata dall'emergenza, quindi con politiche, scelte amministrative, quasi un po' da piccolo governo tecnico, e aprire una fase invece dei contenuti realmente di centro-sinistra. Un'assemblea con tutti i lavoratori dell'Interporto per ribadire l'impegno dell'amministrazione comunale a rilanciare l'impianto e recuperare il ruolo di controllo perso negli anni passati. Il sindaco Tidei e l'assessore al lavoro, Sergio Serpente, hanno incontrato i 54 lavoratori di CPL. La strada tracciata è quella della ricapitalizzazione, ma non con il comune che invece in questo senso sta portando avanti un'opera di commercializzazione e di marketing per trovare nuovi investitori. E cambiamo argomento, parliamo di Natale, i mercatini natalizi non si faranno più a Civitavecchia. Questa è la decisione presa dal sindaco Tidei dopo l'incontro con i commercianti cittadini. Sentiamo i dettagli nel servizio di Gaia Saladini. I mercatini di Natale non si faranno più, lo ha dichiarato il sindaco Tidei dopo un acceso incontro voluto dai commercianti cittadini. Tra le critiche sollevate dai negozianti, il tardivo avviso, quando ormai le merce erano state comprate, dell'arrivo di mercatini con gli stessi gadget e quindi la certezza di vedere diminuite le vendite proprio nel periodo di maggior guadagno. Non abbiamo nulla contro i mercatini a tema, hanno spiegato i commercianti, ma se la merce è la stessa, noi che dobbiamo già pagare affitto, tasse e commessi, ci perdiamo di molto. Ci sono molte zone della città deserte, hanno proseguito. Si potrebbero spostare i mercatini lì, in modo da animarle, senza pensare sempre su negozi situati nel centro della città. Immediata la risposta di Tidei. La consideravo una buona iniziativa, che in fondo funziona bene in molte altre parti d'Italia, ma capisco il disagio che potrebbe recare a negozi cittadini in questo momento di crisi. Ritirerò il bando, ma adesso dobbiamo organizzare insieme altre iniziative per evitare di avere un Natale vuoto. Durante l'incontro, criticati anche i lavori di installazione delle luminarie, che hanno bloccato per tutta la mattina le vie principali della città. Una sola, la domanda sollevata dai commercianti. Perché non sono stati fatti durante l'orario di chiusura dei negozi? Segnali di cambiamento nella politica del Partito Democratico a Tarquinia, dove, nonostante l'invito del sindaco Mauro Mazzola a votare Bersani, le primarie hanno sancito la vittoria al primo turno di Matteo Renzi, con 401 voti contro i 349 di Bersani. I numeri parlano chiaro, indubbiamente più delle parole, esulta Armando Palmini, coordinatore del Comitato Pro Renzi. Cambiare si può. Da tempo nell'aria si respira il desiderio di rinnovamento all'interno del partito. Basta con i soliti nomi precotti. La gente ha bisogno di volti nuovi per continuare, se non addirittura ricominciare a credere nella politica. E Renzi è trionfato anche a Tolfa. Nei locali di Via Roma si sono contati 173 votanti. Di questi 69 voti sono andati a Renzi, 64 a Bersani. In linea con Civitavecchia, invece, Ladispoli e Santa Marinella. Ladispoli in 509, pari al 45,8%, hanno scelto Bersani, mentre in 328, il 29,5%, Matteo Renzi. Il circolo del PD di Santa Marinella-Santa Severa parla di vittoria dei cittadini, registrando una grande affluenza di votanti, pari a 647 elettori. In 276 hanno scelto Bersani contro i 197 voti di Renzi. La nostra riflessione vuole essere incentrata, dicono dal circolo locale, in maniera rilevante sull'alto significato della democrazia partecipativa e sulla richiesta che viene da parte dei cittadini di essere coinvolti. Ci auguriamo che questo successo sia uno stimolo forte per i prossimi appuntamenti elettorali che le forze politiche locali dovranno affrontare anche a livello locale. E dopo Cività Vecchia e Ladispoli anche gli studenti di Tarquinia dicono no ai tagli apportati dal governo Monti all'istruzione. Ieri mattina, al termine delle lezioni, circa 400 ragazzi del liceo scientifico e dell'Istituto Tecnico e gli altri 280 dello scientifico hanno occupato le due seti situate lungo la strada Porto Clementino e Al Lido, decisi a trascorrere lì anche la notte. I ragazzi si sono accampati all'interno della palestra dell'Istituto Scolastico della dirigente Laura Piroli annunciando che proseguiranno l'occupazione fino a venerdì. Dopo una lunga trattativa con la preside Piroli che aveva proposto agli studenti di preferire la formula dell'autogestione, i ragazzi dell'Isis dopo le 13.15 hanno occupato la scuola esponendo due striscioni, uno ben visibile dalla strada che dichiara che l'Isis di Tarquini è occupata. Un altro all'interno della palestra dove gli studenti hanno scritto occupiamoci della scuola vera. Anche i giovani della città etrusca vogliono quindi dare un chiaro segnalo di disagio nei confronti delle scelte del governo e spiegano che l'occupazione non è un modo per marinare la scuola. Ci saranno attività per tutto il giorno, spiega Rachele Contestabile, rappresentante d'Istituto insieme ad Alessio Lodi e Lorenzo Sistoni. La mattina esporremo un cartellone con gli orari di tutte le attività in modo che ciascuno potrà partecipare. Abbiamo inoltre accettato dopo il lungo dialogo con la preside Laura Piroli spiega ancora a Rachele l'ingresso degli insegnanti che tuttavia non svolgeranno le lezioni. Alcuni di loro più collaborativi ci parleranno di questo problema e potranno intervenire nei dibattiti. E impegno a tutto campo anche degli studenti del liceo scientifico di Santa Marinella che sabato si recheranno a Roma per manifestare la loro preoccupazione per Italia la scuola di tutti. Ma intanto hanno concluso la settimana dell'UNESCO dedicata allo sviluppo sostenibile e al tema della terra madre con un tripudio di piatti preparati dai ragazzi insieme ai profumi, colori, sapori e al piacere della condivisione. Studenti e docenti si sono uniti in un banchetto di pietanze regionali. Non è mancata una rivisitazione storica della cucina latina con pane di farro integrale alle noci e patè di olive. Inoltre giochi sul gusto e cinque sensi organizzato dalla Unicop Tirreno. Sarebbe contento l'antropologo Clevi-Levi-Strauss da cui abbiamo rubato il titolo per il nostro progetto dal crudo al cotto afferma l'insegnante referente Clelia Di Liello perché gli studenti hanno riflettuto sulle relazioni profonde che intercorrono tra cibo, cultura e territorio. E venerdì alle 21 Teatro Claudio si chiude a Tolfa la rassegna dedicata ai film italiani d'autori il quinto ed ultimo film dell'iniziativa sarà Il mio domani di Marina Spada con Claudia Gerini. Il pubblico in sala incontrerà la regista Marina Spada e il produttore Francesco Panfili che a seguito del film parteciperanno ad un dibattito con gli spettatori. E infine vi comunichiamo che oggi presso lo spazio dibattiti ADN Cronos andrà in onda Maurizio Landini segretario generale FIOM Landini risponderà alle domande dei giornalisti e degli utenti. Ed ora parliamo di sport all'indomani del bronzo europeo ottenuto nel 100 dorso Damiano Lestingi commenta soddisfatto il suo titolo internazionale quello arrivato in Francia è stato un risultato inaspettato che mi ha riempito di felicità devo ancora smaltire l'euforia prima di scendere in vasca non credevo potessi andare così bene mi aspettavo un quinto posto non certo il podio durante la preparazione stavo bene in acqua e la mia forma era buona ma immaginarsi che l'europeo sarebbe andato così era davvero impensabile Lestingi non avrà neanche il tempo di riposare che tra due settimane dovrà già tornare in acqua per disputare il mondiale di vasca corta di Istanbul la mia gioia cresce se penso che con un colpo solo ha riconquistato un bronzo europeo la nazionale la partecipazione al mondiale mi sono ripreso ciò che mi mancava da molto tempo questo è il mio quarto mondiale due in vasca corta e due in lunga e spero di fare bene probabilmente gareggerò nei 50 100 e 200 d'orso e complimenti a Damiano Lestingi arrivano anche dal presidente del consiglio comunale Marco Piendibene voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni anche a nome di tutto il consiglio comunale per il prestigioso risultato conseguito dal nostro campione Damiano Lestingi in occasione dei campionati europei di Charters la nazionale italiana femminile di pallannuoto finalmente ospite a Civitavecchia per una 5 giorni di alto livello nella quale l'allenatore Fabio Conti proverà gli schemi e i moduli per impostare la squadra che verrà ieri le azzure sono scese nella vasca del Palagalli per il primo allenamento proprio la guida tecnica Fabio Conti commenta ai nostri microfoni la permanenza delle sue ragazze in città sentiamolo Siamo con Fabio Conti tecnico della nazionale italiana femminile di pallannuoto allora Fabio una 5 giorni di altissima pallannuoto qui a Civitavecchia un commento tecnico Sì riprendiamo la nostra preparazione in vista dei mondiali di Barcellona che ci saranno alla fine di luglio e appunto dopo le Olimpiadi abbiamo chiuso diciamo questi 20 mesi di lavoro che mi hanno visto condurre questa nazionale in questa fase abbiamo scelto appunto Cittavecchia per riaprire un po' la nostra selezione con 20 atlete e da qui in po' inizierà il progetto nuovo di questo quadrienne quindi è un collegiale per in qualche modo valutare e approfondire tutti i tuoi dettami tecnici quindi vedere eventualmente quali saranno le atlete che andranno a formare la futura nazionale Sì in questa prima fase diciamo che loro sono impegnate nel club con i vari campionati con le coppe diciamo i nostri incontri sono volti più a gettare le basi del lavoro che poi si svolge in estate quando ci si vede con maggiore continuità tutto questo il collegiale estivo inizierà dal primo giugno e preparerà appunto l'evento Barcellona a precedere questo appuntamento estivo questa grande preparazione ci sono strada facendo durante l'inverno dei piccoli collegiali e già a gennaio avremo la World League con partite che ci testeranno appunto un pochino più in maniera ufficiale quello che stiamo facendo Fabio possiamo cominciare a dire che in questa nazionale abbiamo qualche fuoriclasse comunque hai potuto vedere stai vedendo degli elementi al punto di vista tecnico magari superiori agli altri abbiamo insomma speranze del futuro ma la nazionale italiana è basata su atlete di altissimo livello in particolare insomma noi abbiamo puntato su un gruppo di queste negli ultimi 20 mesi ci hanno sempre dato risultato ahimè Londra è stato diciamo un piccolo non un piccolo è stato un passo falso però questo nello sport ci sta ma il valore di alcuni atlete è veramente di primo ordine di primo livello ottima prima uscita stagionale per la coser di Fabio Cattaneo che nella piscina del Foro Italico batte la SIS Roma per un 19 in un amichevole precampionato di pallanuoto femminile di serie A2 grande prestazione per l'atletico calcio a 5 femminile che nella settima giornata del campionato di serie D ha sovrastato la formazione padrona di casa del Valle dei Casali con il risultato di 11 a 4 questa sera sarà di scena invece la femminile di Raffaella Termini che alle 21 farà visita al Garbatella e noi ci fermiamo qui il telegiornale Alto Lazio torna come sempre con una nuova edizione alle 19.45 grazie per la cortesia attenzione arrivederci